Buongiorno e grazie per essere qui oggi. Vorrei inquadrare la mia relazione in un tema più generale e cioè qual è il ruolo di un'università come la Bocconi in questa fase storica per il nostro paese. Parto da una promessa che riflette una mia convinzione personale anche se, come ha ricordato Mario Monti, siamo riusciti a non essere travolti dalla crisi finanziaria che sta sconquassando l'Europa. Oggi la sfida principale per l'Italia è quella dello sviluppo economico. Dagli anni 60 a oggi la crescita italiana è diminuita costantemente. In questo grafico vedete la crescita accumulata del reddito pro capita italiano negli ultimi decenni e questa figura non ha bisogno di commenti. Il rallentamento non è stato un rallentamento in assoluto ma anche nei confronti con altri paesi europei simili al nostro. Negli anni 70 e 80 l'Italia cresceva più della Francia e della Germania da metà degli anni 90 ha cominciato a crescere meno di questi altri paesi. I giovani, come è stato ricordato, sono quelli che pagano le conseguenze di questa situazione più di ogni altro. L'occupazione giovanile si è ridotta spostando in avanti l'età del primo lavoro e, come vedete in questo grafico che fa vedere l'occupazione nella fascia di età al di sotto dei 35 anni, non solo per via della recessione recente. Il salario d'ingresso sul mercato del lavoro è rimasto stagnante e i neodiplomati o i neolaureati degli ultimi 4 o 5 anni, in termini reali, guadagnano più o meno come quelli di 30 anni fa, quando mi sono laureato io. La crescita della produttività del lavoro si è praticamente arrestata a partire da fine anni 90, anche ma non solo, come illustra questa figura, perché gli investimenti sono rimasti bassi e il paese stenta ad attrarre risorse dall'estero che sia capitale fisico o capitale umano e si potrebbe continuare. Naturalmente non sono problemi di oggi, sono problemi che si sono cumulati nel corso del tempo. Come fare a rilanciare lo sviluppo economico? L'opinione comune è che servano innanzitutto riforme economiche e questo è sicuramente vero, ma io credo che i problemi economici dell'Italia riflettano anche un problema più generale, di tipo culturale, cioè la presenza di valori, di atteggiamenti, di credenze che ostacolano il buon funzionamento di un'economia di mercato in uno stato di diritto e ostacolano il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche in una democrazia liberale. Può sembrare strano che un economista attribuisca alla cultura la causa di problemi economici. In realtà un numero crescente di ricerche anche economiche segue proprio questa strada. Una conclusione centrale della letteratura sullo sviluppo economico comparato è che le regole tipiche di uno stato di diritto e il buon funzionamento delle istituzioni sono fondamentali per lo sviluppo economico. La tutela dei diritti di proprietà, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la protezione dall'abuso da parte dei governi, sono variabili che spiegano la differenza tra i paesi ricchi e i paesi poveri più di qualunque altra variabile economica, sociale o geografica. Le istituzioni sono rilevanti anche per spiegare la specializzazione produttiva dei paesi e il flusso del commercio internazionale, in particolare l'evidenza empirica mostra che le istituzioni sono una fonte importante di vantaggi comparati, anche più importante del capitale umano e del capitale fisico messi insieme. Dove la giustizia e lo stato di diritto funzionano bene, in particolare vi è una tendenza a specializzarsi nei settori produttivi più sofisticati, probabilmente perché la produzione di questi prodotti più sofisticati esige dei rapporti contrattuali, dei rapporti giuridici più complessi e quindi il buon funzionamento delle istituzioni e in particolare della giustizia è particolarmente importante in questi settori per regolare gli scambi economici. Questi risultati non hanno soltanto un interesse accademico ma sono centrali per il nostro paese perché il buon funzionamento della pubblica amministrazione non è un vantaggio comparato del nostro paese e questo è dettagliato nel testo con alcuni riferimenti. In base a questi risultati empirici della letteratura, questo spiega perché l'Italia tende a essere specializzata in settori tecnologicamente poco avanzati e particolarmente esposti alla concorrenza dei paesi emergenti. Ma il buon funzionamento delle istituzioni non riflette soltanto le istituzioni formali o le condizioni politiche, riflette anche gli atteggiamenti culturali dei cittadini. In particolare, anche qui, una letteratura empirica abbondante sia empirica che storica sottolinea il ruolo del capitale sociale. Il capitale sociale è una parola vaga, forse un po' abusata. Qui è intesa come diffusione di valori e di atteggiamenti culturali come la fiducia generalizzata, il senso civico, il rispetto per le istituzioni, la moralità generalizzata nel senso di idee che sottolineano come la nozione di bene e male si applica verso di tutti, in contraposizione invece con la lealtà nei confronti di un clan o di una cerchia ristretta di amici. Il capitale sociale, inteso in questo senso, facilita la convivenza sociale, agevola le transazioni in un'economia di mercato o anche all'interno di organizzazioni complesse e induce una partecipazione politica che è indirizzata al benessere collettivo e non a interessi di parte. Anche queste affermazioni sono sostenute da un'abbondante evidenza empirica. Nei confronti internazionali la pubblica amministrazione e le istituzioni pubbliche funzionano meglio nei paesi in cui vi è più fiducia generalizzata, più senso civico e più rispetto per il prossimo e ciò non sembra essere dovuto a causalità inversa, cioè il buon funzionamento delle istituzioni che induce il capitale sociale perché questi atteggiamenti culturali riflettono condizioni storiche preesistenti, l'istruzione delle generazioni precedenti, la fede religiosa o addirittura le istituzioni politiche che prevalevano alcuni secoli prima. Questi stessi risultati si trovano anche nel confronto di aree tra loro più omogenee come gli Stati all'interno degli Stati Uniti o le regioni all'interno dei paesi europei. Negli Stati americani con più capitale sociale che tipicamente sono quelli dove è più diffusa la religione protestante, gli indicatori di buon governo delle amministrazioni statali sono più elevati e all'interno dei paesi europei lo sviluppo economico e la crescita nel dopoguerra sono state più elevate nelle regioni con più capitale sociale che sono anche quelle che hanno una più lunga tradizione di governo democratico. Infine, come il buon funzionamento delle istituzioni e della giustizia, anche il capitale sociale, inteso nel senso che ho indicato sopra, spiega la specializzazione produttiva di un paese e i flussi di commercio internazionale. Cioè anche la cultura come le istituzioni è fonte di un vantaggio comparato tanto quanto la giustizia e la pubblica amministrazione. E anche da questo punto di vista non possiamo dire che l'Italia sia messa molto bene perché sebbene alcune regioni italiane siano ricche di capitale sociale, grazie a una credizione che risale ai tempi dell'Italia dei Comuni, tuttavia nel paese nel suo complesso la fiducia e il rispetto per le istituzioni che sono tipiche di uno Stato di diritto sono meno presenti che in altri paesi avanzati. E questo è illustrato con qualche dettaglio nel testo. Queste carenze alimentano fenomeni di illegalità diffusa che hanno poi degli importanti riflessi economici. Sappiamo che l'economia sommersa in Italia è probabilmente stimata essere sopra un quarto del prodotto interno lordo, quasi tre volte tanto quello che accade in paesi come la Svizzera o gli Stati Uniti. Nel 2007 si stima che l'evasione fiscale abbia sottratto al fisco oltre 100 miliardi di euro, pari, per darvi un'idea, circa il 60% del gettito fiscale dell'IRPEF. Nonostante tutti gli sforzi e i successi anche recenti per combatterlo, l'attività economica che è riconducibile al crimine organizzato in Italia è stimata essere intorno al circa al 7% del PIB. La cultura e il capitale sociale si riflettono anche nell'organizzazione delle imprese. Alcune recenti ricerche hanno confrontato le pratiche manageriali in un ampio campione di imprese che sono situate in paesi diversi e da questi studi empirici, che usano dati di McKinsey, emerge che dove vi è più fiducia generalizzata le imprese tendono ad avere una struttura organizzativa più decentrata e meno gerarchica. Anche questo è importante perché il decentramento è spesso una condizione necessaria per consentire alle imprese di crescere e la crescita delle imprese più efficienti a sua volta è importante per fare crescere la produttità aggregata perché è il meccanismo con cui le risorse si spostano dalle imprese meno efficienti a quelle più produttive. Quindi in altre parole il capitale sociale inteso come fiducia generalizzata abbassa i costi organizzativi della crescita delle imprese, della crescita dimensionale delle imprese e facilita per questo canale lo sviluppo economico. E anche questi risultati empirici sono rilevanti per l'Italia perché come è noto in Italia prevalgono le imprese di piccole e medie dimensioni e questo è vero non solo per via del settore di specializzazione ma anche all'interno di settori omogenei. Le imprese italiane tendono a essere più piccole che nel resto d'Europa, anche questo è illustrato in un grafico che trovate nel testo. Infine il capitale sociale ha effetti rilevanti anche sul funzionamento delle istituzioni democratiche. In tutte le democrazie un problema fondamentale è come indurre i rappresentanti politici a perseguire l'interesse generale anziché interessi di parte o personali e là dove vi è più capitale sociale gli elettori tendono a essere più attenti e informati e più disposti a mobilitarsi per punire gli abusi. E anche questo è confermato dall'evidenza empirica riferita proprio al nostro Paese. Nei distretti elettorali in cui vi è più solidarietà gli elettori tendono a essere più propensi a punire gli episodi di corruzione politica o di azzardo morale da parte dei rappresentanti politici. Naturalmente anche questo è importante per lo sviluppo economico dell'Italia perché un atteggiamento elettorale tollerante verso la corruzione insieme all'operare lento della giustizia può spiegare perché la corruzione è ancora così diffusa nel nostro Paese e anche questo è illustrato nel grafico che vedete qui che è riportato nella relazione che fa vedere l'andamento temporale dei rankings delle percezioni della corruzione in un ampio campione di Paesi e un valore più alto qua indica che si è più indietro nei rankings in particolare l'Italia è arretrata al 67esimo posto in base a queste classifiche che sono compilate da Transparency International. Tutti questi fenomeni si rinforzano l'uno con l'altro usando il gergo degli economisti potremmo dire che rischiamo di essere in un equilibrio inefficiente cioè una situazione in cui gli incentivi individuali, le aspettative circa i comportamenti del prossimo, gli atteggiamenti culturali sono allineati tra loro e si rinforzano a vicenda e spingono i singoli ad agire in modo controproducente per la collettività. Questa situazione naturalmente non è l'unica possibile, vi è anche una situazione migliore, un equilibrio migliore in cui al singolo conviene rispettare le regole perché sa che anche tutti gli altri lo fanno e per passare dall'equilibrio cattivo all'equilibrio buono tipicamente però non basta l'azione isolata di un singolo per quanto determinato, occorre un cambiamento collettivo che induca un numero ampio di individui a cambiare i loro comportamenti e tipicamente quando queste trasformazioni avvengono si accompagnano a mutamenti negli atteggiamenti culturali, nelle norme sociali e a lungo andare anche nei valori. Le università, io sono convinto, possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel facilitare questa trasformazione e usando questo gergo nel favorire il passaggio da un equilibrio ad un altro perché l'istruzione sappiamo che è forse lo strumento più fondamentale per incidere sugli atteggiamenti culturali e in particolare per diffondere sentimenti come il rispetto per il prossimo, la fiducia generalizzata e la fiducia verso le istituzioni, il senso di appartenenza a una collettività nazionale. La Bocconi io credo che sia in una situazione privilegiata da questo punto di vista, sia per la quantità dei suoi studenti, abbiamo circa 13 mila studenti provenienti da tutta Italia e sempre di più da tutto il mondo, sia per la loro qualità perché sappiamo che molti di loro acquisiscono posizioni di leadership in Italia e all'estero e questi giovani talenti portano e diffondono nella società e nell'economia le loro idee e i loro valori. Inoltre mi piace, ci piace pensare che la Bocconi possa essere anche un simbolo dei valori tipici di una società aperta, pluralista e innovativa e da questo punto di vista io vorrei a questo punto illustrare che cosa stiamo facendo in Bocconi che può facilitare l'accumulazione del capitale sociale così come l'ho inteso e aiutare gradualmente una trasformazione della società italiana, toccando in particolare i tre punti che vedete illustrati in questa slide. Innanzitutto, con riferimento agli aspetti di meritocrazia, la Bocconi è da sempre impegnata nella valorizzazione delle capacità individuali in un contesto di meritocrazia e di mobilità sociale. Cosa c'entra questo con il capitale sociale? C'entra molto perché il riconoscimento del merito e la valorizzazione delle capacità individuali è centrale per identificarci con la società in cui viviamo. possiamo condividere il senso di appartenere a una società solo se la riteniamo giusta e pensiamo che offra opportunità a tutti e che sia una società in cui il merito è riconosciuto. Al tempo stesso la Bocconi però è attenta a evitare che la meritocrazia non degeneri in una competizione eccessiva ma sia invece una spinta eccellere a dare il meglio di sé senza prevalere sugli altri. Con riferimento agli studenti, in particolare la valorizzazione del merito e la ricerca del talento per la nostra università inizia ancora prima che gli studenti entrino in aula perché sia gli sforzi di reclutamento che sono indirizzati verso gli studenti più promettenti delle scuole superiori sia nella selezione per l'ammissione all'università dove in particolare negli ultimi due o tre anni abbiamo dedicato un impegno particolare per cercare di migliorare il test di ammissione. Abbiamo verificato che in seguito a questi miglioramenti il test di ammissione ha una maggiore capacità di prevedere la performance degli studenti poi in Bocconi e questo ci ha consentito di aumentare da quest'anno, dal prossimo anno accademico, il peso del test di ammissione rispetto agli esiti scolastici. Quindi l'attenzione a questi aspetti inizia prima ancora di entrare in Bocconi. Stiamo anche riflettendo su come arricchire il percorso di studi per gli studenti che sono più motivati. Naturalmente la valorizzazione delle capacità e l'attrazione dei talenti per essere davvero tale deve dare a tutti le stesse opportunità indipendentemente dalle condizioni di partenza e dal reddito familiare. Per questo ogni anno la Bocconi investe una parte importante del suo bilancio a sostegno dei propri studenti con borse di studio, con agevolazioni, con garanzie sui prestiti, con servizi che trovate indicati con maggiore precisione nel testo della relazione. Il riconoscimento del merito è un principio che guida tutta la gestione dell'università non solo l'attenzione verso gli studenti ma riguarda anche il corpo docente e proprio in questi mesi stiamo impostando un nuovo modello retributivo per i docenti la parte, come potete immaginare, più delicata della gestione del corpo docente che vuole spostare l'attenzione dall'anzianità al merito. Inoltre, lo scorso anno abbiamo introdotto dei premi di eccellenza per la didattica che si aggiungono a quelli che erano già stati introdotti per la ricerca. In queste innovazioni la Bocconi sta anticipando l'attuazione di alcune delle linee guida nella riforma del Ministro Gelmini che sono state ricordate dal Presidente Monti. Nella stessa direzione del riconoscimento del merito, dell'attenzione verso questi aspetti vanno due progetti che ci hanno visti particolarmente impegnati questo anno. Il primo è la valutazione dei dipartimenti, anche con riferimento a dei benchmark che sono tratti dalle università europee e americane. Questo esercizio di valutazione di benchmarking poi ha guidato i dipartimenti nella formulazione di un piano triannale di crescita e qui abbiamo introdotto altre innovazioni. Innanzitutto è nato un nuovo dipartimento, il dipartimento di marketing che è il primo dipartimento di marketing in un ateneo italiano. Contestualmente la missione del dipartimento di management è stata rifocalizzata dando più spazio all'area di tecnologia. Inoltre, questo è il secondo progetto importante su cui abbiamo lavorato, abbiamo cambiato le regole per determinare l'organico dei dipartimenti, per gestire con più flessibilità le esigenze dell'università e anche le progressioni di carriera dei nostri docenti. Nel testo trovate i dettagli di questi aspetti, ma sostanzialmente ci aspettiamo che le decisioni di promozione e di assunzione dei dipartimenti siano sempre di più guidate dal criterio della qualità e dell'importanza strategica dell'area disciplinare e non dalla disponibilità di posizioni vacanti nella pianta organica dei dipartimenti. Cioè non deve succedere che un dipartimento si faccia scappare un bravo docente al suo interno o reclutato esternamente perché non ha posti disponibili in pianta organica su cui assumerlo o su cui promuoverlo. Al tempo stesso i criteri di qualità richiesti per le promozioni e per il reclutamento devono essere così alti che ci siano sempre dei posti vacanti in ogni dipartimento perché non riusciamo a riempirli con docenti che siano davvero all'altezza delle nostre ambizioni e degli nostri standards di qualità. Vengo alla ricerca e ai programmi didattici. La cumulazione di capitale sociale riflette anche il progresso e la diffusione della conoscenza e la Bocconi è da sempre impegnata in ricerche su temi di grande rilevanza per le istituzioni e per la vita collettiva. Nel testo della relazione trovate numerosi esempi di temi come la legalità, il senso civico, il capitale sociale, il rispetto per le istituzioni sono declinati di volta in volta in modo diverso a seconda dell'ambito disciplinare ma sempre all'interno di un comune filo conduttore. E naturalmente molti di questi temi si riflettono anche nei programmi didattici. Qua vorrei offrire qualche esempio. Nei corsi di economia aziendale management gli studenti imparano l'importanza dell'etica professionale e della responsabilità sociale, oltre a tante altre cose. Nella SDA e nei corsi di laurea offriamo numerosi programmi per la formazione di una classe dirigente nella pubblica amministrazione e anche nel settore non profit. Questa è un'antica tradizione della Bocconi che è stata la prima università italiana a muoversi in questa direzione. I corsi di giurisprudenza sono tutti costruiti quasi per definizione di com'è intesa la giurisprudenza in Bocconi intorno alla centralità del rapporto tra il mondo del diritto e il mondo dell'economia. Nel testo trovate altri riferimenti. Questi stessi argomenti sono trattati anche in varie attività extracurrici. che riscuotono molto successo tra i nostri studenti così come riscuotono successo gli stage e i progetti sul campo in alcuni di questi temi. E qualche volta un esempio più efficace di tante statistiche e vorrei ricordare in particolare l'esempio di due brillanti studenti di MBA nella SDA che hanno dedicato tre mesi del loro field project non a una grande istituzione finanziaria o a una grande impresa del settore delle consulenze come avrebbero potuto fare ma invece a un piccolo ospedale e a una scuola di ostetricia che è sostenuta dalla fondazione Ambrosoli in Uganda aiutando con le competenze manageriali che stanno acquisendo nella business school chi sta cercando di salvare le vite umane. Sebbene questi corsi e queste attività facciano parte da lungo tempo della tradizione della nostra università vorremmo fare ancora di più e stiamo cercando in particolare proprio in questi mesi di potenziare ulteriormente le iniziative didattiche e culturali in questo campo. Terzo, l'università non deve essere soltanto un luogo dove accumulare conoscenze professionali accumulare capitale umano e poi trovare un lavoro vogliamo che gli anni passati in Bocconi siano anche un'esperienza di vita fondamentale che contribuisce alla formazione completa di un individuo anche attraverso la condivisione di valori e per questo ci stiamo adoperando per fare emergere un senso di appartenenza e di identificazione con l'università in tutta la comunità boconiana e devo dire che questa esigenza è ancora più forte oggi perché, come sapete, l'università sta cercando di internazionalizzarsi e questo ovviamente aumenta l'eterogeneità all'interno della comunità boconiana. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo avviato un nuovo progetto che chiamiamo Campus Life che cerca di dare più impulso alle attività culturali, sociali e recreative e in questo ambito vogliamo in particolare privilegiare le iniziative degli studenti proprio per farne i principali protagonisti di queste attività. Con lo stesso intento, come ha ricordato Mario Monti, le università e i docenti stanno anche investendo risorse ed energie nell'interazione con l'associazione degli alunni Bocconi. Quanto più una comunità è eterogenea, tanto più è importante verificare che non ci siano discriminazioni e anche per queste ragioni abbiamo costituito quest'anno un comitato pari opportunità che è composto dai docenti e che ha il compito di promuovere e sostenere iniziative su questo tema. Infine, nel 2010 vi è stata un'altra importante novità, l'Honor Code, cioè con l'aiuto degli studenti abbiamo elaborato un codice di comportamento di docenti e di studenti che ha l'obiettivo di trasmettere e di rinforzare i valori di lealtà e di correttezza all'interno dell'intera comunità boconiana. Contemporaneamente sono state anche rinforzate le sanzioni per chi viola queste regole. Infine, per segnalare che anche i docenti e non soltanto gli studenti vogliono attenersi al codice di comportamento, è stata istituita una nuova figura superpartes, il garante degli studenti, a cui gli studenti possono fare riferimento e qui desidero ringraziare il professor Marchetti che dopo aver contribuito a realizzare questo progetto ha accettato di essere il primo garante degli studenti a partire da questo anno accademico. Infine, vorrei riassumere brevemente altri aspetti di quello che stiamo facendo in Bocconi o che abbiamo fatto che non sono direttamente collegati con i temi che ho trattato finora. e qua procederò sinteticamente e trovate una descrizione più estesa di questi temi nel testo della relazione. Comincio con l'internazionalizzazione. Qui abbiamo continuato a potenziare gli scambi e gli accordi con altre università e imprese nel resto del mondo. Per darvi un'idea, le opportunità di studio e di lavoro all'estero quest'anno hanno superato il numero di 3.000 nel 2005 erano meno della metà. In particolare vorrei sottolineare due aspetti che ritengo importanti a questo proposito. Il primo, negli ultimi due anni abbiamo concluso accordi di scambio di studenti con alcune delle migliori università americane ad esempio Princeton, Northwestern, Chicago, New York University, la University of Pennsylvania. Questi si aggiungono ad accordi simili con altre grandi università americane che già avevamo e grazie a questi impulsi recenti ormai credo che possiamo dire di avere accordi di scambio con quasi tutte le migliori università al mondo. Secondo, abbiamo consolidato degli accordi di double and joint degree con alcune università di paesi emergenti, non solo di scambio ma appunto di double and joint degree e per l'area graduate siamo tra le poche università europee che ora hanno accordi di double degree con i paesi del BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, cioè nei paesi che offrono maggiori opportunità economiche ai giovani. Questo non è tanto merito dell'università e merito degli studenti se questo accade perché vuol dire che i nostri studenti sono accolti nei migliori programmi internazionali e se questo avviene è perché nel corso degli anni hanno dimostrato di essere eccezionali e sono diventati leaders nel loro settore. E questo non è solo un'impressione è confermata anche da alcune statistiche recenti, vorrei ricordarne qua alcune. la Bocconi è al 28esimo posto al mondo tra le istituzioni i cui alunni sono attualmente CEO nelle Fortune 500, cioè nelle più grandi imprese multinazionali del mondo. La Bocconi è addirittura la terza università al mondo i cui alunni sono tra i cento economisti più citati al mondo. È al 21esimo posto al mondo come università target per il recruitment secondo un campione di 5.000 imprese che è usata nei rankings internazionali di QS. La vocazione internazionale dei nostri studenti e laureati è confermata anche dalle esperienze di lavoro all'estero e complessivamente quest'anno i boconiani hanno avuto accesso a oltre 1.600 opportunità di stagio e di lavoro all'estero. Questo è un incremento dell'11% rispetto al 2009. Il 20% dei neolaureati della Bocconi trova lavoro fuori dall'Italia e per i programmi in lingua inglese, per alcuni programmi in lingua inglese è addirittura il 40%. Questi sono numeri che ci rendono fieri come boconiani e naturalmente ci rendono più preoccupati come italiani. L'internazionalizzazione riguarda anche i docenti, ormai quasi tutti i nostri docenti sono reclutati sul mercato internazionale e anche quest'anno siamo lieti di dare il benvenuto ad alcuni nuovi ingressi, in particolare tra i professori ordinari al professor Massimo Guidolin che si unisce al Dipartimento di Finanza venendo dalla University of Manchester e al professore Nicola Pavoni che si unisce al Dipartimento di Economia venendo dalla University College London. Inoltre come adjunct professors verranno in bocconi i professori Stan Bayman per diversi mesi ogni anno nei prossimi anni e un professore di accounting a Wharton e il professor David Mazursky che insegna marketing anche a Hebrew University. A questi si aggiungono 11 assistant professors che sono stati reclutati quest'anno in varie discipline sul mercato internazionale. Vengo alla ricerca della ricerca svolta in bocconi ho già parlato con riferimento ai suoi contenuti qui mi limito ad aggiungere due osservazioni la prima è che cominciamo a vedere i frutti degli investimenti che sono stati fatti in questi anni un indicatore importante della qualità della ricerca sono le citazioni che sono raccolte dall'ISI l'Institute for Scientific Information e tra il 2009 e il 2007 le citazioni dei docenti bocconi sono aumentate del 75%. Un secondo indicatore di qualità sono i finanziamenti ottenuti per la ricerca su grants competitivi internazionali anche qui abbiamo migliorato nel 2010 il budget di questi finanziamenti ha superato i 10 milioni di euro erano 3 milioni nel 2005 e siamo particolarmente fieri di avere tra i progetti finanziati 4 progetti finanziati dall'European Research Council che è un organo europeo che finanzia prestigiosi progetti di frontiera averne 4 in bocconi ci pone davvero al livello delle migliori università europee secondo stiamo facendo abbiamo fatto uno sforzo importante per diffondere i risultati della ricerca in bocconi anche al di fuori della comunità scientifica mi riferisco in particolare al sito web bocconi knowledge che riassume in forma divulgativa i principali risultati della ricerca che svolgiamo e l'indirizzo di questo sito web lo trovate indicato nel testo della relazione spero che lo aggiungerete ai links dei vostri siti preferiti vengo alla didattica sulla didattica già alcuni anni fa avevamo fatto importanti revisioni e quindi qui non sono richieste innovazioni quanto piuttosto una manutazione attenta vorrei menzionare in particolare tra le quattro scuole pre-experience la scuola di phd che è piccola per dimensioni per numero di studenti ma che è molto importante perché è un simbolo della ricerca che viene fatta in bocconi e qua vorrei segnalare il forte miglioramento che c'è stato nel numero delle domande di ammissione che sono salite del 42% quest'anno in particolare sono salite nell'area di economics and finance dove sono raddoppiate quest'area ha unificato due phd che prima erano separati e anche il placement dei nostri studenti di phd da soddisfazioni trovate delle indicazioni più precise nel testo con riferimento alle altre scuole le domande di ammissione nella scuola undergraduate e a giurisprudenza sono rimaste in linea con l'anno precedente che però aveva avuto una forte crescita rispetto al 2008 2009 la scuola graduate invece ha visto un aumento del 9% rispetto all'anno prima e addirittura del 33% rispetto al 2005 e 2006 con riferimento al placement e ai rapporti con le imprese infine non vi sono state variazioni di rilievo rispetto all'anno precedente ma questo è un segnale di forza nel senso che vi è stata una gravissima crisi economica come sappiamo e quindi il fatto di tenere più o meno invariate le statistiche sul placement sono una conferma della qualità dei nostri laureati e nel testo trovate delle indicazioni più precise vorrei dire due parole sulla SDA in particolare che merita particolare attenzione sia per la sua rilevanza nella nostra università sia per le innovazioni che stanno attuando in particolare la prima vorrei menzionare qua ricordare che i flagship program della SDA sono i corsi di MBA e su questo fronte questo anno la Bocconi anzi negli ultimi due anni la Bocconi e la SDA hanno ricevuto alcuni importanti riconoscimenti negli ultimi due anni in particolare la SDA ha riavuto la full accreditation dei più importanti enti di accreditamento mondiale che sono Equis e MBA inoltre pochi giorni fa abbiamo visto che la SDA è stata inclusa nel ranking di Business Week che è probabilmente il più prestigioso ranking delle scuole mondiali fatto negli Stati Uniti la SDA è l'unica tra le scuole italiane a essere inclusa in questo ranking è al diciottesimo posto al mondo tra le business schools non americane non degli Stati Uniti seconda cosa che brevemente vorrei menzionare riguardante la SDA la SDA spesso realizza dei programmi in collaborazione con specifiche imprese che sono riservate tipicamente al personale interno quest'anno la SDA ha anche lanciato con molto successo una nuova formula la Academy questi sono programmi specialistici in collaborazione con aziende leader di settore ma però sono rivolti al mercato esterno non soltanto all'interno dell'azienda esempi di queste Academy sono la Academy of Healthcare Economics nel management con Novartis la Sport Business Academy con RCS Sport del gruppo Rizzoli la Channel and Retail Academy che è svolta insieme a IBM vengo alle osservazioni conclusive nel 1986 la novicella spazzale Challenger esplose per un'avaria in una piccola componente un giunto di collagamento che si chiama un O-ring Michael Kramer un economista di Harvard prese spunto da questo episodio per formulare quella che ora è nota come la O-ring theory questa è una teoria che evidenzia la complementarietà tra le diverse parti di un processo produttivo e la O-ring theory si applica molto bene alla nostra università che è un complesso ecosistema perché segnala che affinché l'istituzione funzioni bene tutte le sue parti devono operare in perfetta armonia anche gli ingredienti più piccoli quelli apparentemente più marginali fanno la differenza tra il successo e il fallimento esattamente come l'O-ring dello Space Shuttle tutti contribuiamo al successo dell'istituzione nessuno escluso e tutti dobbiamo essere ugualmente orgogliosi quando uno studente si laurea con successo e inizia una brillante carriera perché ciascuno di noi ha contribuito a realizzare il sogno di questo studente per questo voglio ringraziare l'intera comunità bocconiana per l'impegno la passione e lo spirito di collaborazione con cui contribuisce al successo dell'università vorrei anche cogliere questa occasione per ricordare con affetto e gratitudine tre colleghi che sono prematuramente scomparsi quest'anno Innocenzo del Grosso Vittoria Meini e Sandro Roventi desidero ringraziare tutto il corpo docente il personale amministrativo gli studenti e i loro rappresentanti e un ringraziamento particolarmente sentito anche a nome dell'università va ai membri del comitato rettorale con cui lavoriamo quotidianamente e ai direttori dei dipartimenti e ai dirigenti dell'università in particolare ringrazio i colleghi che hanno terminato il loro mandato il professor Piergaitano Marchetti e Guido Corbetta che hanno terminato il loro mandato rispettivamente di prorettore per la governance accademica e i rapporti con le istituzioni e direttore della graduate school vorrei anche ringraziare i direttori dei dipartimenti che hanno terminato il loro mandato in particolare il professor Federico Gezzi Donato Masciandaro Francesco Saita e Salvio Vicari che rispettivamente sono stati direttori dei dipartimenti di studi giuridici di economia finanza e management infine sono personalmente grato ai membri del consiglio di amministrazione e in particolare ai membri del comitato esecutivo al presidente Mario Monti al vicepresidente Luigi Iguattri al consigliere delegato Bruno Pavesi e al professor Antonio Borges che anche quest'anno mi hanno aiutato con la loro esperienza e con i loro consigli con questo dichiaro aperto l'anno accademico e vi ringrazio per la vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti